Arriva alla nostra redazione un'osservazione da parte di una persona che vive in città in merito all'apertura delle farmacie di turno nei giorni festivi ed in particolare il sabato e la domenica. Ciò che la persona che ci ha contattato ha notato è che una città grande come Caltanissetta, si precisa, ha solo disponibile una sola farmacia dove si creano file immense. Ad incidere sull'affluenza in farmacia sarebbe il particolare periodo così come ci spiega il presidente dell'ordine dei farmacisti di Caltanissetta, Giuliano Marrocco. In questo momento a livello nazionale c'è una presenza di patologie influenzali che stanno mettendo in ginocchio un pochettino tutto lo stivale a ferma. Tra l'altro c'è anche un aumento di casi covid, quindi gli afflussi in farmacia in questo momento sono sicuramente superiori alla media, ma le farmacie riescono a gestire tranquillamente la situazione. Certo, nei weekend, aggiunge, quando ci sono soltanto le farmacie di turno c'è un po' più di file in farmacia, ma è una situazione normale, bisogna avere soltanto un po' di pazienza dovuta alla connicenza momentanea. E poi ancora entra nel merito della turnistica. I turni sono stabiliti da un determinato calendario, conclude, ma le farmacie che sono aperte di turno riescono a soddisfare le esigenze della clientela.